No, non perdono È una vettura distintiva, è la nuova gamma di Citroen che si differisce da quella abituale a cui il grande pubblico è abituato Questa è una vettura di qualità, è un prodotto distintivo proprio per questo La sua personalità venga espressa dalle grandi linee nuove che lei vede, è qualcosa che lei non ha già visto Io la vedo trasversare, la vedo qua per tutti, non ha più voglia di grande macchinone, perché ha voglia di contenere i consumi, perché ha voglia di non inquinare Soprattutto perché ha voglia di essere e di non apparire, è una macchina che si presenta da sé, la qualità della può toccare La nostra azienda è in piedi di questa terza generazione, di fianco ai miei figli Mio padre prima di me, io e poi i miei figli, rappresentiamo la stessa marca oltre 40 anni Chi le compra trova in noi una certezza, siamo una certezza oltre che nella vendita, evidentemente nel posto vendita Noi riusciamo a garantire una serie di servizi che sono all'altezza delle aspettative dei nostri clienti Facciamo parte di un marchio che per il secondo anno consecutivo ha avuto il premio di Interauto News Per la soddisfazione del cliente, per il posto vendita Si troviamo prima di noi, ma noi diamo il nostro valore aggiunto a questo marchio Grazie a tutti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!